SONO VENUTA A TUNESI PER LAVORARE SONO DITTATORI ARABI TUTTE LE VOLTE SONO IO CHE LI BACIO BUONASERA HA LA LICENZA PER ESERCITARE? LA MIA PRATICA, STAVO DICENDO LEI CREDE CHE SARA ACCETTATA? AH, INCHALLA, INCHALLA LA PREGO, SI O NO? TE L'HO DETTO, INCHALLA LA LICENZA dive ? Grazie a tutti.